Non credetevi migliori degli altri. 4 giugno 1972. Figli miei diletti, sia pace a voi. Sono qui a benedirvi, a ringraziarvi e per dirvi. Andate come agnelli fra i lupi e portate dovunque quei desideri di bontà, di purezza, di semplicità, di fede e di preghiera che in questo luogo benedetto state alimentando. Andate fra i lupi. Vi ho detto. Non perché dovete vedervi migliori o superiori agli altri. Ma per la prudenza che vi deve guidare nel comunicare coi vostri simili. Essi sono vostri fratelli. Che sarebbero forse migliori di voi se avessero ricevuto quei doni spirituali di cui la vostra anima è stata arricchita. E se sono rimasti in uno stato di letargo o se sono precipitati nel buio o nel fango. Questo è dovuto ad una serie di cose di cui tutta la società è responsabile. Sappiate andare incontro perciò a tutti come io andavo in cerca di anime a cui donare luce ed amore. Andate premuniti di quei mezzi che sono le vostre armi spirituali. Senza le quali non riuscirete a nulla. La grazia di Dio e la preghiera. Ecco la vostra forza. Così traendo profitto da tutto ciò che vi viene insegnato siate per tutti maestri di bontà. Vi è stato detto che dovete costruire la vostra casa non sulla sabbia ma sulla roccia. Perché il soffiare dei venti non abbia da batterla. La casa è la vostra santità. La roccia sono io, Gesù, che per mezzo della grazia e della preghiera tengo salda la vostra fede e do efficacia alla vostra opera. Continuate ad amarvi. Io vi benedico.